Allora Mattia non può gareggiare perché non c'è nessuno della sua categoria però non è giusto fargli perdere i punti perché non si è presentato quindi va là, è da solo e riceve i suoi punti Ah lo preme? Sì, adesso Massimo gli fa le foto Eccolo là Mattia! Dai Mela! Bea, amore, come va l'occhio? Meglio, c'è qualcosa dentro? Dai! Succede! Succede! Dai Mela! Uno, due, tre, quattro, stati buoni? Chi è la cintura di Mattia? Vuoi vera di vedere già? Chi è che ha la cintura arancina di Mattia? E dov'è Mattia? Ah, fatemela prestare! Dai Mela! Chi è la cintura! Fin 18ів Forza Melania! Forza Melania Davide! La manzeggiata dici? Forza Melania! 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 Forza Melania Davide! Avete sentito dove sono questi ragazzi? E dove sono? Viglia dove l'hanno chiamato? Viglia hanno chiamato adesso! Viglia Davide hanno chiamato adesso! Eh no ma non si può così eh! Arriva! Viglia! Viglia Davide! No ma ragazzi!